Ah, questo rumore. Lavori in corso. Che modi sono il rompere così? Siamo chiusi. Oh, Angela, che... che ci fai qui? Ho sentito dei rumori. Va tutto bene? Oh, non credevo si sentisse. Scusami, Angelo. Come vedi, gestisco un emporio. Tratto ogni genere di mercanzia. Ma non posso lavorare, non più. Perché no? Beh, avevo un tesoro in questo negozio. Lo reputavo il mio angelo custode. Un Buddha in piedi in bronzo dorato. Un tesoro di grande valore. Ma mia figlia Arin l'ha rubato. Quella statua protegge il negozio. Lei... sa bene quanto vale. Scommetto che voleva venderla al mercato. Capisco. Dimmi come posso aiutarti. Grazie, Angelo. Prova a terrorizzare i predoni al mercato e ti diranno dove si trova. Terrorizzarli? Esatto. Ti prego, Angelo. Riportami la mia statua del Buddha. Per favore, ti imploro. Va bene. Vedrò che posso fare. Per favore, ti imploro. Kaya. Oh, Angelo! Scusa, stavo pensando a mia sorella. Spero che torni presto. Sono stanca di aspettare. Ultimamente l'ho sentita più vicina a me. È un gran sollievo ed è tutto merito tuo, Angelo. Sono felice per te. Kaya, posso chiederti una cosa? Sì. Conosci una certa Arin? Arin? Immagino tu abbia saputo allora. Che cosa? Di lei e suo padre, Lyle. Erano molto uniti. Si prendevano cura l'uno dell'altra, ma non navigavano nell'oro. Ma Lyle, da quando ha quella statua del Buddha, è cambiato. La considera il suo Angelo Custode. Crede perfino che incarni la Sfera Madre. Col tempo, la sua ossessione è divenuta opprimente. Sarà per questo che Arin ha deciso di liberarsene. Cercava un luogo in cui nasconderla per sempre, dove nessuno l'avrebbe ritrovata. Sembra qualcosa di personale. Quindi lei dov'è ora? Piane dei rottami. C'è un edificio con una cupola. Lo chiamano la villa. Fu costruita da strani droni. Non ci va mai nessuno. Perfetta per nasconderci qualcosa. Ok, grazie. Perfetta per nasconderci qualcosa. È questo? Già, un edificio in rovina, opera di... Però... Non dovrebbe essere il cinema. Andiamo. Come pensavo. Né la ragazza scomparsa, né la rifurtiva. Lei dov'è? Forza. Indaghiamo. Facciamo qualche domanda anche al drone di manutenzione. Salve, posso io aiutarti? È passato qualcuno poco fa, giusto? Con una statua. Sai dove sia ora? Ragazzina, era qui. Voleva seppellire Buddha in piedi bronzo dorato. Vicino c'è discarica dei container. Discarica dei container. Capito. Quella ragazza causa solo guai. Almeno ho una vaga idea di dove sia. E poi che ci fai in un posto del genere? Troviamola. È in fretta. Aiuto! Qualcuno mi aiuti? Dei mostri vogliono uccidermi! Tieni duro. Sto arrivando. Sto arrivando. Angelo, perché sei qui? Potrei chiederti lo stesso. Sei venuta fin qua per nascondere la statua del Buddha? Come... come fai a saperlo? È una storia lunga. Comunque, non dovresti liberartene. Perché non ne parli con lui? Se lo dici tu, lo farò. Che ti è passato per la testa? Non volevi, certo. Calma. Non è come pensi. Prima dovresti ascoltare cosa ha da dire. Arin? Papà, questa cosa è maledetta, credimi. Lo fissi tutto il giorno brontolando e litighi con la gente. Invece che proteggerci, ci sta solo separando. Eravamo... Tanto felici, Senza. Oh, figlia mia. Così ho cercato di nasconderlo per sempre. Ma alla fine, l'ho riportato. Hai ragione, amore mio. Dovevo sapere che non avresti rubato qualcosa senza motivo. Mi vergogno di me. Ti chiedo scusa, Arin. Papà. Angelo. Lo prenderesti tu? Puoi tenerlo per te o gettarlo dove vuoi. Ok. Lo prendo. Grazie. Grazie, Angelo. Figurati. Voglio che tu e tuo padre siate felici, chiaro? Chiaro.